Allora, Eminenza, per qualche giorno si è sentito Lucano? Sì, anche con gioia, perché ho scoperto qui una gente molto piena di valori, di fede evidentemente, ma anche di affetto, di semplicità. L'ho notato soprattutto nei giovani, che sono molto schietti, aperti, accoglienti. Credo che questo sia un valore che dobbiamo assolutamente mantenere, perché purtroppo il mondo nel quale viviamo non è così, è piuttosto inquinato da altre realtà e quindi questo mi ha fatto molto piacere. Eminenza, è Gidio Giordano davvero un pilastro qui nel territorio, qui nella diocesi di Tursi e Lago Negro per la sua preziosissima ricerca storica? Sì, certo. Gli ho fatto i complimenti sia pubblicamente che personalmente, perché è veramente un appassionato e un intelligente appassionato. Eminenza, per concludere, chi la sta intervistando è un ammiratore del Cardinale Martini e noi sappiamo del rapporto che lei ha avuto con il Cardinale. un pensiero per questa figura straordinaria. Mi permetto di chiederle, le manca un po'? Certamente, io non solo sono stato e sono ammiratore del Cardinale Martini, ma sono stato e sono ancora un suo figlio e quindi per me è un papà che mi manca, certo. Lo posso ricordare, posso valorizzare i suoi consigli, il suo pensiero, però certo non è la sua presenza fisica. Qui abbiamo l'amministrazione comunale impegnatissima in questi giorni a valorizzare Elatronico, dal sacro al profano, no? Poi però le cose si annodano, Sindaco. Sì, perché stamattina Eminenza è stata all'eterme, è data la giusta benedizione per far realizzare il progetto Elatronico Città del Benessere, quindi le cose si integrano bene. Tra l'altro, Sindaco, tu dicevi che proprio in quella famosa giornata in cui è stato presentato il progetto, tu la mattina è ripassato in Basilica. Eh sì, però adesso l'Eminenza è venuta proprio direttamente, mandata a Papa Francesco, quindi penso che sia la volta giusta. Un pensiero per Egidio Giordano, però lo chiederò anche all'assessore Matura e all'assessore Castellana. Beh, noi come amministrazione ci siamo sentiti il dovere di regalargli una targa per riconoscenza di quello che ha fatto in questi anni e di quello che ha fatto oggi e di quello che farà, perché già sappiamo che sta scrivendo un libro sulla storia di Elatronico e anche sulla storia politica di Elatronico, quindi non ha fatto soltanto, non ha dato un contributo soltanto a noi oggi, ma ha dato un contributo ai nostri figli, ai nostri nipoti e a tutti i posteri. Assessore Matura, un pensiero per Egidio Giordano? Ma, sento orgogliosissimo di averlo tra di noi. Adesso che lo conosco da vicino posso dire senza nessun problema che il comandante Egidio Giordano è veramente un grandissimo uomo, una grandissima persona. Ha lasciato tanto all'Eatronico e sono sicuro che lascerà ancora, perché è un vulcano. Lui ama scrivere, ama il suo lavoro e penso che ancora ci regalerà tante belle pagine. D'altro il cinema è pieno, sicuramente per il Cardinale, però io credo che vi è stato anche il riconoscimento di una stima verso Egidio, vero? Sì, penso proprio di sì, anche perché, devo essere sincero, io ero anche in chiesa, c'era più gente qui che in chiesa. Forse l'orario, perché qui era più tardi, non lo so, però devo dire, e poi sono rimasti fino alla fine. Penso che la popolazione di La Tronico abbia apprezzato molto i testi scritti da Egidio Giordano. Grazie Assessore, l'Assessore alla Cultura, insomma, qui in 24 ore, tante cose importanti. Sì, assolutamente, io non posso fare altro che condividere ciò che hanno detto l'Assessore Maturo e il Sindaco e unirmi al coro di elogi nei confronti di Egidio Giordano, che non è altro che un'eccellenza ladronichese. Ieri ne abbiamo viste alcune, tra cui anche Egidio, che è stato premiato. Sicuramente è un'eccellenza anche nel modo di vivere, nel modo di approcciare le cose, una parola giusta per tutti, mai qualcosa fuori posto, è un esempio e sono sicuro che Egidio è come il vino. Passando il tempo migliora di qualità e in generale in tutti i suoi aspetti. Sostanzialmente lui, forse non se ne sta accorgendo neanche lui, forse non ce ne stiamo accorgendo neanche noi, ma lui sta scrivendo delle pagine di storia che da adesso a mille anni saranno ancora qui. Lui ha fissato sulla carta cose che altrimenti sarebbero andate perdute. Io so che sta lavorando già ad altri libri, ad altri volumi, il suo impegno continuo che andrà avanti fino a, io penso proprio per sempre, continuerà fino a quando ce la farà. Quindi siamo in attesa del suo prossimo volume e rimanendo alla giornata di oggi, io penso che sia riuscito a fare anche un piccolo miracolo qui, perché è riuscito a far restare le persone nel cinema fino alle tarda serata senza aver mangiato e sono venuti oltre che per il Cardinale, per le spiccate presenze di tipo religioso, soprattutto per la sua persona, perché era pieno, pieno di persone che adesso si stanno complimentando con lui e fanno una fila anche per salutarli e per dirgli bravo. Quindi è apprezzato, un cittadino latronichese è apprezzato e come lui ce ne sono tanti, dobbiamo prendere esempio da lui e darci da fare per cercare, ecco, i corri da stadio per Egidio, darci da fare affinché sia un esempio per tutti. Grazie. Professore, un intervento non convenzionale, un intervento sentito in cui ha dato anche un po' qualche dritta, no? In filigrana il suo intervento lo si può leggere anche in questo modo. Attenzione, ogni paese, ogni parrocchia ha un giacimento di petrolio, perché lei poi ha fatto un altro riferimento all'inizio del suo intervento, anche se qui in Basilicata è un po' particolare parlare di questa materia, però al di là di questo, rimanendo sull'aspetto culturale, davvero ogni paese ha un giacimento culturale sicuramente. Questo è un giacimento di petrolio culturale che non porta a morte come i giacimenti di petrolio ed è un giacimento così importante che va innanzitutto custodito, valorizzato e reso fruibile. Fare questo è una responsabilità che a ciascuno di noi, in particolare parlo in questo caso degli archivi diocesano e archivi parrocchiali, nei quali è contenuta la memoria di tutto il popolo, dunque non soltanto una memoria circoscritta, un ambito propriamente ecclesiastico, c'è la storia civile in questi archivi, la responsabilità di tutti noi appunto è quella di conoscere e rendere fruibile tutto questo e non disperdere questo materiale. Professore, lei ha citato un po' la superficialità che, ahimè, è pure c'è stata nei decenni precedenti, nei secoli precedenti. Qui in questa parte di territorio, professore, oltre ad una certa superficialità, vi sono stati degli eventi bellici, in particolare la discesa delle truppe francesi napoleoniche in alcuni paesi di questo territorio provocò davvero una distruzione totale, nei paesi qui intorno, in particolare l'Auria venne quasi rasa al suolo e quindi molti archivi furono bruciati anche per questo. Questi eventi, insieme ai terremoti e alle alluvioni, si devono mettere in conto. Tuttavia però c'è un elemento ancora più grave che è quello della negligenza e dell'abbandono. E quello che è sopravvissuto a tutti questi eventi viene oggi distrutto perché non viene conosciuto, non si comprende l'importanza di questa documentazione e oggi che abbiamo tutti gli strumenti per, per esempio, digitalizzare, facciamo finire in polvere documenti preziosissimi. Non si tratta di una mania del collezionista, ma dell'attenzione alla memoria che riguarda tutti i cittadini. Professore, penultima domanda, mi faccio fare una digressione. Lei è di Caserta, ma è possibile che questa città che è nel cuore di noi tutti, perché c'è la reggia, ma non solo, una città davvero bellissima, meravigliosa, eppure lei ci faceva un quadro un po' a tinte fosche. Il quadro è disastroso perché è una città che ha migliaia di vani in più di quello che è necessario, che ancora qualcuno ritiene che debba essere progettata per 100.000 e oltre il numero di abitanti, 100.000 abitanti, e rimane invece stabile a 79.000-80.000 abitanti da un lato. Dall'altro lato è circondata dalle cave, cave che funzionano per mandare il cavato in Svizzera, e non per nessuna necessità o quasi nessuna necessità interna, e tutto questo ha danno definitivo dei cittadini. Senza quelle montagne e quelle colline, che sono le colline dei Monti Tifatini, la città di Caserta è tutta la città che arriva fino a Capo e non è più la stessa. Professore, per concludere, una suggestione. Alberto Sordi nel film Il Vigile consegnava un'idea di vigile. Questa sera ha acquisito un'altra idea, anche se la sapeva bene, che la qualità degli scritti che le sono stati affidati un po' di tempo fa, già aveva capito la qualità dell'autore. Però questa sera, vedendo questo comandante dei Vigili Urbani, beh, quel personaggio stereotipato di Alberto Sordi, insomma, un po' scricchiola. No, 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 non è che scricchiola, entra totalmente in crisi, perché qui loro hanno un comandante dei Vigili Urbani che è completamente diverso, direi anche da molti o da diversi comandanti delle nostre zone, che non sono particolarmente disponibili innanzitutto alla cultura. Ma è un elemento straordinario, rompe dunque questo cliché e loro si devono ritenere fortunati. Certo, davvero, mi scusi, un pensiero su Egidio Giordano, oltre, diciamo, il momento semiserio, diciamo, della mia domanda e della sua replica? È straordinario che un uomo che ha già impegni professionali e impegni familiari, immagino, riesce a trovare anche il tempo per applicarsi, in modo anche così scientifico, alle ricerche. E questo direi come elemento esemplare. Mi sembra che a volte ci sono degli accademici che dovrebbero fare questo per mestiere, sono pagati per questo, non lo fanno, dovrebbero prendere esempio da chi, in modo del tutto volontario, si dedica alla ricerca. Questo è molto bello, ma anche molto grave per coloro che non sempre fanno il loro dovere. Siamo stati bravi, Gigi. Troppo bravi. Eh, troppo bravi, va bene, va bene, va bene. Grazie veramente. Egidio, cosa ti senti di dire? È difficile dire, perché è un'emozione grandissima. Infatti per tutta la serata ho dovuto trattenermi per l'emozione. Gli amici, il coro, il cardinale, il professore, mi sembra. E sono grato di aver offerto ai miei concittadini una serata come questa. Egidio, la giornata perfetta, attessa da tempo. Allora, questo era un sogno, diciamo che si è realizzato. Io posso dire che i sogni si realizzano e questo adesso però ce n'è ancora un altro, perché non bisogna mai fermarsi. L'assessore Castellano diceva, forse Egidio non si rende conto che sta scrivendo delle cose che probabilmente tra mille anni verranno ancora lette. Quindi davvero una grande responsabilità. Sì, la sento e non mi pesa questa responsabilità. E so che quando uno scrive, scrive un po' per sé, ma soprattutto per gli altri. E quindi gli altri saranno quelli che io non vedrò, ma leggeranno i miei libri. Egidio, solo un pensiero per il coro, insomma, un coro da stadio, poi alla fine, da coro polifonico, diciamo quasi liturgico, insomma, ad ultrassa alla fine. Sì, ma perché questo coro non è solo il cantare, questo coro è amicizia ed è, come dire, veramente fratellanza tra amici. Grazie. 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 Grazie.